Da oggi a lunedì per tre giorni a Venezia, a causa della concomitanza con le consultazioni referendarie, verranno tagliati alcuni collegamenti nelle linee di navigazione. Circa 200, stando ai dati ufficiali, sono i marinai addetti del settore navigazione a CTV impegnati nell'arrestimento dei seggi. Questo, perciò, non renderà possibile garantire, almeno a pieno regime, le linee 6, quelle balneari e anche la linea 2 verrà ridotta. Un disservizio che però, secondo i sindacati, non è colpa dei lavoratori. Il problema delle corse che domani salteranno per via del referendum e della presenza da parte di dipendenti a CTV e i seggi non è assolutamente da imputare a questi, perché se fossimo in una normale condizione, come in tutte le altre realtà d'Italia, in qualsiasi altra azienda, con l'organico pienamente disponibile e soprattutto a regime, non si sarebbe assolutamente verificato questo fatto. Il fatto di essere sotto organico è da mesi. I parti sociali continuano a puntare il dito contro un organico, secondo loro ridotto all'osso. Continuiamo a lavorare in queste condizioni, dove la copertura delle corse viene fatta con straordinario e saltati riposi. Era inevitabile che comportasse questo in una giornata particolare come quella di domani. Non era una cosa nuova, era già successo nelle precedenti elezioni, quindi sapevano per tempo che si sarebbe verificata anche domani. E attenzione, sale! Sembra tanto uno scaricabarile e scaricare una responsabilità di nuovo adosso ai lavoratori e ai dipendenti di CTV e non che la dirigenza si assuma le sue per far fronte a quali sono i reali problemi della società. S. 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 Grazie.